Forte la Fiorentina ingolla il settimo con Riganoma, l'arbitro annulla per fuorigioco. I Viola premono ma il Venezia a creare i maggiori pericoli. Qui è Biancolino che sfiora il palo. Dopo la mezz'ora la partita si infiamma, Venezia in velocità, Biancolino libera, Ginestra il tiro però è debole. Cerca il riscatto, subito dopo Ginestra su punizione, Secas vola e mette in angolo. Ancora Venezia e Liendo questa volta a provare la botta al volo, ancora bravo Secas. È il momento migliore del Venezia ma è Vrisas che mette dentro l'1-0 per la Fiorentina, la gioia dell'attaccante greco. Immediata però la reazione lagunare, Liendo se ne va sulla destra in mezzo per Biancolino, Secas distinto. Nella ripresa Mondonico si copre, la Fiorentina non corre troppi rischi. Molto pericolosi invece Graffieri, Benussi e il palo salvano il Venezia che però subisce il secondo gol al 36esimo, punizione di Fontana.